Buonasera a tutti, nel precedente Consiglio Comunale ho sforcolinato che in queste Consiglie della Zia e del Consigliere Sotto non ci siamo sentiti di avere politici, ma dei cittadini responsabili elettriche casapolesi per curare gli interessi della cittadinanza. E dai cittadini responsabili abbiamo dato il nostro supporto all'amministrazione per la finalizzazione di lavori che in primi si fiappacato per dare decorose limitabilità ai residenti dell'oria e alla cittadina vita. Se siamo arrivati a Capoline grazie alla superficialità, all'arroganza e l'inresponsabilità da parte dei componenti che facevano parte della visita casapola domani, raccoltare l'ascissione a loro inverno, con tale gesto siete resi autori di una delle scelte peggiori che un Consigliere responsabile per i problemi attenti e problemi del proprio Paese potessero parlare, soprattutto quando vi erano nel cassetto progetti da avviare per i benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio. Tutta la possibilità di produrre benessere della comunità è stata bloccata, senza che ci sia stato mai uno scontro su qualcosa di incettivo, ma a mio avviso solo per l'interesse personale e per i familiari e grazie anche agli interventi di persone che dovrebbero disinteressarsi della politica, che invece da sempre non pretende per loro tornare conto per l'apporto fornito in campagna elettorale. In campagna elettorale avevamo previsto che ci sarebbe stato, non poi, una scissione a rinverno della lista casapola domani e ci auguriamo che i cittadini di casapola comprendano una volta per tutte che se vogliono lo sviluppo del Paese il colluvio sarà nel posto e non porterà mai benessere le cittadinanze al territorio. Grazie. Grazie.